Due colpi tra fronte e nuca, uno al cuore ed un altro alla schiena. Muore così pochi minuti dopo essere uscito di casa Kokri Belaid, leader laico dell'opposizione del governo tunisino. La morte di Belaid forse servirà proprio ad ottenere quello per cui si era battuto, la caduta del governo che il premier jebalista per sciogliere. La moglie del leader ha parlato di minacce ricevute negli ultimi periodi e di cui nessuno si era interessato. La famiglia Belaid ha respinto le condoglianze giunte dal governo commentando così, non sappiamo che farcene. Centinaia di persone protestano davanti alla sede del ministero dell'interno, gritando slogan contro il governo e chiedendo le dimissioni del primo ministro jebali. Le forze di polizia giunte sul posto in gran numero si sono schierate a protezione del palazzo, stendendo altro filo spinato rispetto a quello già presente e che isolava la struttura. Un agente di polizia nello scontro con i manifestanti è rimasto ucciso. Salve a tutti e bentrovati con l'informazione di Unica Channel. Il nucleo speciale di polizia valutare della Guardia di Finanza presso banche ed altre strutture finanziarie ha concluso il sequestro di 40 milioni di euro in denaro e titoli disposto dalla procura di Siena. Si tratta di somme nella disponibilità di alcuni tra i maggiori indagati dell'inchiesta relativa al caso Monte dei Paschi di Siena, i quali, sempre secondo l'accusa, avrebbero messo in atto un piano con la finalità di truffare l'istituto di credito. Tali somme si trovavano all'estero ed erano state riportate in Italia grazie alla procedura dello scudo fiscale. Un uomo è stato travolto ed ucciso da un treno della metropolitana nella stazione De Angeli a Milano sulla linea rossa. Non è ancora chiaro se l'incidente sia stato causato da un malore improvviso o se invece si tratta di un suicidio. Sul posto sono prontamente intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco per rimuovere il cadavere e la circolazione è stata interrotta fino alla fine di queste operazioni. Ferito con un colpo di arma da fuoco alla gamba sinistra durante il tentativo di rapina dello scooter su cui viaggiava, un giovane è incensurato di 23 anni di Napoli. Dopo l'aggressione in Largotarsi, il giovane è stato prontamente trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini da un passante. I medici hanno immediatamente sottoposto il ragazzo ad un intervento chirurgico, riscontrando così la frattura scomposta del femore provocata dal poriettini. La prognosi è di 41 giorni. Finisce 1-1 la amichevole tra Olanda ed Olanda, giocata ieri sera ad Amsterdam. Al trentatresimo del primo tempo, Lens porta in vantaggio i padroni di casa, ma nella ripresa, più precisamente al minuto 46, Verratti pareggia i conti per gli azzurri di Prandelli. Al termine del match, il CT ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'autore del gol. È un giocatore di grande personalità e tecnica, ma deve essere più veloce e non andare in scivolata, deve essere più tattico. Non brilla invece la coppia d'attacco Ballotelli e il Sharawi, ma Prandelli crede molto nella loro intesa e commenta così, abbiamo un futuro interessante su cui lavorare. Era questa la nostra ultima notizia, grazie a tutti per l'attenzione. A tutti voi un cordiale buongiorno.